ciao a tutti benvenuti nella mia rubrica consigli del giorno oggi vediamo questo punto che è un semplicissimo punto lavorato con la maglia bassissima in costa che secondo me è ideale per la realizzazione di manici e tracolle per borse vediamo insieme come realizzarlo per farvi vedere il punto ho realizzato una serie di catenelle non vi sto a dire quante perché sono indicative giusto per farvi vedere allora praticamente vado a lavorare subito sulla seconda catenella una maglia bassissima e faccio la stessa cosa su ogni catenella fino alla fine delle catenelle fino alla fine arrivati alla fine della riga lavorate una catenella e girate il lavoro adesso su questa la catenella sulla maglia successiva quindi la prima prima maglia bassissima del giro precedente andiamo a prendere la solina quella dietro lavoriamo sempre una maglia bassissima e facciamo questo fino alla fine della riga ecco qua già come si presenta già così potrebbe essere utilizzato come cordino diciamo se vogliamo comunque fare un più spesso andiamo avanti la lavorazione è sempre la stessa catenella giriamo e sulla questa è la catenella sulla prima maglia della riga precedente vado a fare sempre una maglia bassissima vado avanti sempre in questo modo per tutto diciamo le righe che ci servono a seconda dello spessore che vogliamo ottenere adesso faccio alcuni giri da sola vi faccio vedere l'effetto finale ed ecco qua vedete viene compatta sembra un po una maglia fatta con i serri viene bella compatta come dicevo secondo me questo questo punto è perfetto per realizzare manici e tracolle per borse perché è bello compatto bello dritto tra i lati e è resistente quindi per me è perfetto ok il video è terminato spero che vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo ciao a tutti ciao 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 ciao